Buongiorno ragazzi, episodio 26, stagione 5, episodio specialissimo, sono le 9 di domenica 24 luglio 2022 e sì sì sì, finalmente è giunto al termine il countdown di quello che avevo fatto attendere finora e se volete subito andare a vedere di cosa si tratta potete andare su diventerò milionari.it slash figata ho scelto un urlo abbastanza sotto traccia così per non esaltare troppo le persone e se no state con me ancora qualche minuto e vi spiego di cosa stiamo parlando perché veramente quello che sono riuscito a contrattare, ad ottenere è una figata incredibile si tratta in sostanza ragazzi di due contenuti pubblicati da investire uno che ho fruito, uno che è veramente utilissimo e l'altro che è una cosa che vi vado a narrare dopo perché veramente cioè quella ha detto vabbè questa veramente se non l'avessi fatta lavorerei a tutti i costi allora il primo corso si chiama professione investitore è un corso veramente figo perché è pensato in maniera intelligente oltre a darti dei contenuti che sono aggiornati all'avanguardia proprio per il 2022 è strutturato di modo che ci sono 30 lezioni tu le ascolti una al giorno e in sostanza cosa succede? succede che giorno dopo giorno ascoltando le lezioni e alle volte facendo anche degli esercizi riesci a farti un'idea di idee di investimento quindi a parte l'investimento azionario che va bene è la cosa che va per la maggiore perché richiede abbastanza poche competenze, richiede più che altro capitale ma si viene portati all'interno di diverse modalità di guadagno come c'è il match at betting, come c'è il real estate eccetera eccetera che sono cose che vi dite a me ma cosa mi interessa a me non me ne faccio gran che in realtà è qui che casca l'agino perché la conoscenza, la cultura, l'informazione sono veramente alla base di qualsiasi cosa che magari adesso voi dite ma del real estate onestamente anche no però metti che il corso ti ispira, metti che le competenze ti piacciono metti che quello che senti ti può aiutare nel tuo futuro ti aiuta magari a dare un consiglio a un amico veramente ragazzi queste cose non hanno prezzo quindi seguitelo perché è un corso veramente fighissimo a me è piaciuto un sacco soprattutto il fatto che alla fine di determinate lezioni ci siano degli esercizi da fare da quel tocco in più che finché non lo fai non ne capisci l'utilità in realtà l'utilità massima l'ho capita sia facendo quegli esercizi ma anche facendo esercizi della tua mente potuto di pentimalli perché effettivamente se tu ascolti un contenuto tendi a essere passivo lo guardi come guardi un film ti fai i cazzi tuoi eccetera mentre se sai che alla fine c'è un esercizio ci presti un po' più di attenzione e comunque inizi a rimuginare su come funziona quello che stai dicendo su come potresti applicarlo alla tua vita di conseguenza veramente ha un'utilità molto 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 superiore cioè che in realtà secondo me se fosse un corso così da seguire senza esercizi avrebbe abbastanza poca utilità cioè quasi zero invece così è veramente 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 bello veramente consigliatissimo perché l'ha fatto e è tenuto un sacco anche a livello di sia di investimenti verso la fine ma anche di gestione delle finanze quindi capire come si è messo finanziariamente a livello di mentalità a livello di cose di tutti i giorni quindi veramente serve un sacco ragazzi e sono contentissimo di averlo strappato perché non è una cosa che danno in giro così facilmente però oltre a questo che già di per sé è una cosa che basta cioè nel senso che è tantissima roba questo corso qua se avete le idee un po' confuse se magari volete dire ma io vorrei approfondire una cosa oppure non sono certo di questo corso assolutamente professione investitore spacca i culi quindi ragazzi questo è già una cosa incredibile che potete trovare sul diventeromi.it slash figata ma l'altra cosa questa è figata all'ennesima potenza ho ottenuto in esclusiva cioè non è una cosa che danno a tutti in realtà la danno solo a quelli che hanno seguito questo corso il corso che vado a dirvi adesso ovvero il summit di investiro quello che hanno fatto a fine giugno e che io ho seguito lei di conseguenza ho le registrazioni non è una cosa che vendono perché appunto di solitamente lo tengono per gli iscritti per chi ha seguito il corso per rimanere aggiornato su quello che succede ma in questo caso però non so il motivo sono riuscito ad avere questa esclusiva quindi non verrà dato a nessun altro però verrà dato a noi quindi se volete c'è questa possibilità incredibile adesso io vi dico ragazzi un cazzo perché ci sono tre interventi che sono spettacolari più qualcun altro che è molto 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 interessante ma potrebbe piacere come no i tre interventi allora ve li dico subito intanto ogni summit è incentrato su un argomento probabilmente ve l'ho già detto quando ve ne ho parlato non appena sono tornato a fine giugno comunque l'argomento di questo summit era il per 10 quindi decomplicare tutto quello che noi stessi, le nostre finanze, le nostre entrate eccetera 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 i tre interventi che dovete andare a vedere a tutti i costi e che valgono solo quelli tutto il prezzo del pacchetto che è veramente ridicolo sono gli interventi di Alessandro e di Stefano quindi dei due founder di Investiro perché partono dagli albori della loro esperienza quindi si capisce tutto il percorso che ci sta dietro è veramente interessantissimo ma la cosa ragazzi la cosa over the top proprio l'intervento che a me ha fatto dire cazzo cioè questo qua da che pianeta viene è l'intervento di Alberto Totaro lo trovate anche quello è da architetto da libero professionista imprenditori si chiama e cioè è eccezionale lui è una macchina da guerra ti fa venire voglia proprio di fare soldi metterti in ballo di trovare i numeri di capire le cose poi come parla di tutto si vede che ha tutto sotto controllo che è partito anche lui che non sapeva bene le cose poi ha avuto un'idea ci ha provato ha investito un sacco di tempo un sacco di energie un sacco di soldi e alla fine è arrivata ad avere ad avere ragione ad avere successo perché adesso la sua azienda macina macina soldi ma li ha li ha macinati con una con una mentalità incredibile cioè io adesso vi sarò onesto l'ho riguardato perché è un intervento che proprio dici boh e ti motiva un sacco a fare perché poi lui ti dice c'era questo problema e l'ho risolto in questo modo qua c'era questa cosa che non andava cioè ogni problema è una soluzione ogni problema è una scusa per migliorare sempre di più e ogni volta che migliori poi trovi anche qualcosa per ottimizzare ulteriormente quindi veramente ragazzi questo questo intervento vale 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 tutto cioè tra tutto tra tutti i pacchetti di tutto questo intervento è veramente una cosa eccezionale comunque gli altri corsi perché non è che fossero da meno però questo è stato tre spanne soprattutto sono riguardo la meditazione e poi c'è anche il real estate come fare il per dieci con il real estate match betting quindi come fare il per dieci con il match betting e altri piccoli altri piccoli interventi che adesso non vi sto qua a dire ma sono tutti interessanti sono stati editati quindi non ci sono tempi morti pause domande eccetera di conseguenza potete fruire in due o tre serate ve li beccate ma sono bellissimi perché sono tutte esperienze personali non è che sono cose precotte stracotte eccetera è tutta proprio vita vissuta e come bonus di questi video mi vedrete vedrete anche Giacomo di Dentro Milonario in un angolino a sinistra perché volevo sedermi ho detto dove mi siedo qua non so dove sedermi proprio quando all'inizio come a scuola quando si arriva e non si sa cosa dove mettersi mi metto qua metto un lato corridoio così se devo andare in bagno vado senza disurbare nessuno perché alla fine le priorità sono quelle e vediamo quindi mi sono messi in seconda fila a sinistra mi vedrete se fate l'acquisto ma veramente ragazzi non ci sono molte alternative all'acquisto se volete migliorare se volete capire altre cose se volete diventare delle persone un po' migliori perché veramente quello che succede quando ci si mette in ballo quando ci si mette in un ambito che non è il nostro ma ci si mette a confronto con altre persone che sono 10-20 passi avanti a noi quello che succede è che se siamo persone intelligenti ne prendiamo spunto e facciamo dei miglioramenti incredibili a nostra volta quindi veramente ragazzi sappiate che questi due corsi in realtà possono essere anche acquistati singolarmente no però professione investitore può essere acquistato e le registrazioni del summit possono essere acquistate in aggiunta ma veramente è un pacchetto che io vi dico acquistate di tutti e due perché hanno una valenza incredibile poi vi rimangono a vita non è che avete un tempo predefinito per vederli comunque vi dico io li ho visti e appunto ragazzi è tanta roba cioè vi danno una svolta mentale una voglia di fare se siete un po' incerti sul vostro business avete un business magari avete dei soldi non sapete come investire oppure se state lavorando volete lasciare il lavoro per fare qualcosa e beh ragazzi cioè non aggiungo altre è una cosa assolutamente da andare a vedere andate a vedere perché cioè bellissimo vi ricordo diventerò milano.it slash figata così ho usato appunto un url che descrive bene quello che vi sto proponendo quello che sono riuscito ad ottenere e fatemi sapere cosa ne pensate quando arrivate perché effettivamente abbiamo modo di vedere una cosa wow bellissima quindi ragazzi sono contentissimo di avervela portata sono Giacomo diventerò milano in 5 anni ci sentiamo domani ciao ciao